fratelli sorelle amici cari pace del signore a tutti quanti voi dio benedica la vostra vita oggi è 23 febbraio sono le 7 del mattino e con l'aiuto del signore vogliamo rivolgerci alla sua santa e benedetta parola leggeremo nel capitolo 7 al verso 13 del vangelo di luca dove troviamo scritto che il signore veduta la ebbe pietà di lei e le disse non piangere la scena era sicuramente commovente c'è un corteo funebre e c'è una donna che sta accompagnando il suo unico figlio una donna vedova tra l'altro e il dolore era sicuramente grande non solo in lei ma anche in quanti la conoscevano e simpatizzavano con lei ed è interessante il fatto che il signore dinanzi al quale questa donna era una perfetta sconosciuta non rimase indifferente ma anzi si avvicinò e le dede una parola di conforto e di speranza sì perché in quel non piangere c'è una manifestazione innanzitutto della misericordia di dio ma c'è anche una parola di speranza che gli viene rivolta misericordia compassione perché il signore vede comprende quelle lacrime e vuole agire affinché quella donna si possa rialzare dalla grande dolore che la sta affliggendo ma anche speranza perché egli sa che sta per operare un miracolo straordinario infatti leggiamo più avanti che gli si avvicina tocca la bara e poi dice al ragazzo alzati è il morto o si alza e si mette seduto e comincia a parlare viene così restituito a sua madre ebbene quando il signore viene e ci parla e egli lo fa perché ha uno scopo e il suo scopo è sempre duplice innanzitutto è quello di consolarci di confortarci di aiutarci nel momento del dolore e del bisogno e poi egli ci parla anche perché vuole operare e agire in nostro favore affinché possiamo ritrovare forze ed energie per ricominciare il cammino per proseguire da dove magari ci siamo fermati sì perché la vita riserva delle volte delle gioie ma altre volte delle brutte sorprese e proprio in quei momenti il signore è l'amico fedele che viene ed asciuga le nostre lacrime che viene e ci dà forza per poter trovare il coraggio di andare avanti il salmista diceva che quando era turbato da grandi preoccupazioni lo leggiamo al salmo 94 verso 19 il conforto del signore aveva alleviato l'anima sua e voglio dire a te che sei preoccupato che sei addolorato voglio dire a te che sei ansiosa per il tuo presente anche per il tuo futuro ebbene in questi momenti se tu rivolgi il tuo cuore al signore egli saprà con il suo conforto alleviare le tue sofferenze e saprà dare una nuova visione alla tua vita affinché tu possa trovare le energie necessarie per proseguire il cammino sì il signore non è soltanto qualcuno che ci sta vicino nei momenti di gioia meglio è qualcuno che ci viene a cercare nei momenti in cui ci sentiamo soli e abbandonati lo fece con il cieco che da lui stesso era stato guarito e che dopo la guarigione venne rinnegato praticamente perfino dai suoi genitori leggiamo che gesù lo andò a cercare e gli parlò e gli fece capire che egli sarebbe stato a fianco a lui e che non l'avrebbe mai abbandonato lo leggiamo di paolo che si trova nella sua ultima difesa abbandonato da parte di tutti ma può affermare il signore è stato con me lo possiamo leggere di stefano che mentre viene lapidato e sta per lasciare questa terra dice di alzare gli occhi al cielo di vedere i cieli aperti il figlio dell'uomo alla destra di dio in piedi che lo sta aspettando lo posso testimoniare anche io che in tanti momenti di dolore di afflizione ho trovato nel signore la mia forza e il mio aiuto e forse anche tu che mi stai ascoltando puoi testimoniare di queste esperienze nel tuo passato ebbene voglio dirti che quel passato non è qualcosa che ormai non si può più ripetere ma che anzi stamattina il signore ti vuole invitare a ricordare come egli ha operato già nella tua vita affinché tu possa trovare le forze per tornare a sperare e a vedere nella tua vita un nuovo intervento da parte sua e per te che ancora non hai avuto questo tipo di esperienza forse perché non hai mai gridato al signore con tutto il cuore stamattina ti voglio invitare a cercare il signore proprio ora lì nel tuo dolore a gridare a lui affinché egli possa venire a consolare la tua vita e ti posso assicurare che se tu lo farai con tutto il tuo cuore non troverai un dio indifferente ma troverai un signore che si avvicinerà a te esattamente come si avvicinò a quella donna che ti inviterà a non piangere ma riporre la tua speranza e la tua fiducia in lui troverai un signore che asciugherà le tue lacrime e che ti darà conforto al cuore scoprirai che in cristo c'è veramente un amico fedele e che della sua amicizia non c'è mai di pentirsi perciò con tutto il cuore voglio invitarti stamattina cerca il signore ed egli ti darà tutto quello di cui hai di bisogno per poter continuare il tuo cammino fratelli sorelle ricordiamoci il nostro dio è un dio misericordioso e compassionevole in lui possiamo trovare rifugio nel momento della tempesta in lui possiamo trovare l'aiuto propizio in ogni situazione della nostra vita che la sua grazia la sua pace il suo amore siano con tutti quanti noi dio ci benedica insieme